Mister Roberto Floris, domani per il Varese ci sarà l'esordio di campionato a Voghera contro la Vogherese, una partita che nasconde insidie. Una partita molto difficile, una squadra difficile da affrontare in uno stadio dove è pieno, il pubblico li spinge molto, hanno una buona tifoseria e sicuramente l'entusiasmo anche della prima partita sarà parte dell'inizio della partita. Perciò dovremmo sicuramente approcciare bene nei primi minuti e avere anche quella voglia di saper soffrire perché sicuramente sarà una partita piena di insidie. Cosa chiede al suo primo Varese di campionato? Ma chiedo questo, chiedo di essere uniti, compatti nei momenti difficili, chiedo alla squadra di essere umile, di rispettare l'avversario, un avversario forte e poi fare una prestazione importante e cercare di partire col piede giusto.